Benvenuti nel nostro canale. Questo video è dedicato al set Metaforza 2. Ti mostreremo l'installazione e la configurazione passo per passo. Il set comprende l'unità Metaforza 2 di base da montare su guida DIN, 3 sensori di movimento, 2 sensori di perdite, 4 sensori di posizione di porto finestre, 4 sensori di temperatura, un alimentatore e una guida breve che contiene i codici QR per il collegamento al dispositivo. Il modulo Metaforza 2 ha le seguenti caratteristiche. 10 uscite relè per il collegamento di carichi quali lampade, tapparelle, valvore per il controllo del riscandamento e dell'acqua, cancelle di garage, serrature e vetri con vettori, 4 canali regolabili per il collegamento di luci con regolazione della luminosità, 24 ingressi per il collegamento di pulsanti interruttori, interruttori RED, sensori di movimento e sensori di perdite, una porta per il collegamento di sensori di temperatura, controller, area, network e bus per il collegamento di dispositivi e sensori supplementari, una porta Ethernet per la connessione ad Internet. Installare l'alimentatore e il modulo Metaforza 2 nel quadro elettrico, collegare l'alimentatore, Internet, i pulsanti, i sensori e il carico. È possibile consultare le istruzioni complete su come collegare i vari dispositivi al modulo Metaforza, seguendo il link presente nell'angolo in alto a destra o nella descrizione di questo video. Si consiglia di installare due interruttori automatici, uno per il carico e l'altro per l'alimentazione di Metaforza 2. Se si dispone di moduli aggiuntivi per estendere il sistema, installarli e collegarli, dopo averli collegati con il CAN bus, Posizionare i terminali all'estremità del CAN bus Importante! Elementi come le tapparelle possono essere danneggiati se la tensione viene fornita contemporaneamente ai canali di apertura e di chiusura. Non è consigliabile alimentare il carico prima di configurare i canali di uscita. Alimentare l'unità Metaforza senza alimentarla al carico Assicurarsi che l'indicazione sul modulo sia stata accesa, così come le luci LED dello slot Ethernet Installare l'applicazione Larnitech sul proprio smartphone o tablet A tale scopo utilizzare il codice QR che si trova nel manuale di istruzioni del set Metaforza Dopo aver installato e avviato l'app per collegarsi al dispositivo accedere al menu connessioni e scansionare il codice QR dalle istruzioni A questo punto si può procedere all'impostazione degli ingressi e delle uscite Accedere al menu aggiuntivo e attivare la modalità Modifica premendo l'icona Modalità di modifica Accedere nuovamente al menu aggiuntivo e premere l'icona Impostazioni Nella scheda Moduli è possibile visualizzare e configurare gli ingressi e le uscite dei moduli collegati al sistema Fare clic sull'icona Impostazioni del modulo Metaforza e scegliere Configurazioni uscite nel menu che si apre Nella finestra di dialogo scegliere il tipo di carico collegato al modulo e i suoi parametri Ad esempio si possono scegliere le tapparelle e impostare l'ora della loro apertura o una valvola per il controllo del riscaldamento scegliendone la funzione normalmente chiusa o normalmente aperta Salvare le modifiche quindi alimentare il carico e verificare il funzionamento Gli ingressi vengono configurati allo stesso modo dopodiché si verifica la correttezza del loro funzionamento Se sono presenti i moduli di espansione configurare e verificare il loro funzionamento È quindi possibile creare diverse aree e distribuire i dispositivi tra di esse A tale scopo assicurarsi di essere in modalità modifica Quindi fare clic sul menu di scelta dell'area e creare le stanze necessarie Poi premendo un'icona in modo prolungato è possibile cambiare la posizione o spostarla in un'altra stanza Trascinandola nel menu di scelta della stanza e scegliendo poi la stanza desiderata È possibile creare stanze e spostare elementi da una stanza all'altra anche andando su impostazioni e poi sulla scheda struttura Premendo l'icona in modo prolungato si accede al menu da cui è possibile accedere alle impostazioni dell'elemento corrente Nella sezione generale è possibile modificare il nome dell'elemento aggiungere un comando vocale, cambiare un'icona o aggiungere questo elemento ai preferiti La sezione auto consente di attivare l'automazione con pochi clic e di impostarne i parametri Nella sezione programma è possibile impostare il programma di accensione e spegnimento di un determinato elemento regolandolo anche in base all'ora dell'alba o del tramonto Ad esempio le luci esterne possono essere accese un'ora dopo il tramonto e spente alle 23 La sezione interruttori consente di associare i pulsanti per controllare un determinato esecutore A tale scopo occorre innanzitutto premere il pulsante desiderato Il sistema lo visualizzerà dopodiché si dovrà premere associa e salvare le modifiche Ora questo pulsante controlla l'esecutore scelto La sezione interruttori contiene impostazioni aggiuntive per i pulsanti È possibile scegliere di controllarli con un doppio o triplo clic su un pulsante nonché scegliere un'azione, ad esempio solo per accendere o spegnere l'esecutore Ad esempio l'illuminazione principale può essere controllata con un solo clic su un pulsante Poi una singola luce può essere associata allo stesso pulsante con un doppio clic Un triplo clic attiverà la retroilluminazione In questo modo premendo il pulsante una volta si controlla l'illuminazione principale Premendolo due volte si controlla una lampada indipendente Premendolo tre volte si controllano le luci a led Allo stesso modo è possibile collegare i sensori di clima e temperatura le valvole dell'acqua e i sensori di perdite Per fare ciò entrare nelle impostazioni della valvola di riscaldamento e poi nella sezione sensori dove si scelgono uno o più sensori di temperatura che si trovano all'interno della zona di riscaldamento interessata La sezione automatizzazione impostare la programmazione settimanale della temperatura Dopo aver salvato le modifiche la zona climatica manterrà la temperatura secondo il programma preimpostato E' quindi possibile creare scene di luce A tale scopo scegliere il punto corrispondente nel menu aggiuntivo Nella scheda generale inserire il nome della scena Nella scheda stato aggiungere le luci necessarie premendo in modo prolungato impostarne lo stato Se necessario è possibile collegare i pulsanti nella scheda interruttori Quindi salvare la scena Ora quando viene attivata le luci scelte passeranno allo stato impostato In questo modo è possibile creare diverse scene di luce per varie situazioni ad esempio per la lettura di un libro o per la visione di un film La fase successiva consiste nell'impostare l'automazione Supponiamo di dover spegnere la luce del corridoio quando non viene rilevato alcun movimento per 10 minuti A questo scopo nelle impostazioni dell'elemento si deve andare alla scheda automazione L'opzione auto periodo imposta il tempo durante il quale l'automazione rimane inattiva dopo il controllo manuale dell'esecutore Ad esempio dopo aver acceso la lampada con l'aiuto dell'app o di un pulsante l'automazione viene disattivata per 10 minuti Questo parametro viene impostato in base alla funzione dell'area Nel nostro caso impostiamola a 5 minuti Attivare quindi l'automazione numero 4 Lo spegnimento si basa sui dati del sensore di movimento Andare alle impostazioni dell'automazione Scegliere il sensore di movimento la soglia di funzionamento del sensore e il tempo 10 minuti Salvare le modifiche L'esecutore visualizzerà un'icona A in più il che significa che questo elemento è stato automatizzato Ora la luce si spegnerà quando il sensore non rileverà alcun movimento per 10 minuti Per l'integrazione con gli assistenti vocali attivare la funzione di controllo vocale nelle impostazioni degli elementi necessari È inoltre necessario collegare il sistema Smart Home agli assistenti vocali Per sapere come fare consultare le istruzioni che si trovano nel menu aggiuntivo Dopo aver aggiunto nuovi dispositivi Siri e l'assistente Google aggiorneranno da soli l'elenco dei dispositivi mentre ad Alexa è necessario dire Trova nuovi dispositivi Per collegare telecamere, strumenti o plug-in impostare la regolazione del clima o aggiornare il sistema è possibile utilizzare il pannello LTSetup Per maggiori dettagli seguire il link presente nell'angolo in alto a destra o nella descrizione di questo video LTSetup è accessibile anche dal pannello di amministrazione del distributore L'impostazione e la modifica della configurazione del sistema possono essere effettuate da remoto senza essere presenti in loco Ogni giorno viene eseguita una copia di riserva completa di tutte le impostazioni e della configurazione del sistema Viene sincronizzata con il cloud rendendo possibile il ripristino del sistema in pochi clic Il dispositivo non ha bisogno di impostazioni aggiuntive per accedere al cloud L'applicazione rileva l'assenza del sistema nella rete locale ed esegua automaticamente la connessione tramite il cloud In caso di difficoltà in una qualsiasi delle fasi è possibile utilizzare la documentazione su wikilarnitec.com o contattare il servizio di assistenza tecnica I nostri specialisti del servizio di assistenza sono in grado di connettersi al dispositivo da remoto controllare i parametri di configurazione del sistema e assisterti nella risoluzione di eventuali problemi Grazie per aver guardato questo tutorial ci vediamo nel prossimo episodio